ciao a tutti e tutte io sono fabio lovato grazie per l'introduzione di sebastiano e mi presento allora io faccio parte di il di este la sezione locale di este nata da poco diciamo è nato l'anno scorso quest'idea di rifondare un gruppo linux io ne facevo parte di un gruppo linux della zona della bassa padovana ancora diciamo parecchi anni fa quando era un po più sbarbato e avevo un po più di capelli anche e poi il gruppo si è sciolto però sempre seguito il mondo del software libero sono sempre stato appassionato di linux e per cui diciamo dall'anno scorso circa da un anno da agosto ho cercato di ricreare un gruppo linux nella mia zona dopo un po che abbiamo fatto degli incontri abbiamo trovato delle persone prima tra tutti andrea che è qua oggi e che mi dà una mano diciamo a portare avanti il gruppo da quest'anno siamo diventati anche sezione locale di ilsa questo anche perché approfitto per ringraziare ilsa ci permette anche di avere insomma dei fondi per fare iniziative un po più strutturate e corpose e oltre a essere appassionato di linux ho anche un'azienda dove sviluppiamo un gestionale libero questo mi fa pensare quando quando ero a scuola che quando ho scoperto linux e software libero qualche amico mi diceva ma come come puoi fare a fare un software da vendere come fai a guadagnarci nella vita se fai un software aperto con il codice aperto che tutti te lo possono copiare beh potrei dargli la risposta oggi che il metodo c'è non si vende il software in sé si vendono i servizi e poi tutto ciò che si sviluppa si condivide si mette in rete e comunque diciamo che che si riesce a vivere tranquillamente il software che di cui vi parlo oggi si chiama opensta manager qualcuno si è chiesto cosa significa allora open perché aperto sta all'acronimo di servizio tecnico di assistenza perché è un gestionale per assistenza tecnica almeno così era nato e manager perché permette di gestire l'assistenza tecnica infatti diciamo il nostro claim è un gestionale open source per l'assistenza tecnica e la fatturazione elettronica abbiamo aggiunto la fatturazione elettronica negli ultimi anni perché chi lo utilizzava dopo chi si era sviluppato per gestire l'assistenza tecnica voleva avere anche l'esigenza di poter anche emettere delle fatture e quindi diciamo che è diventato un gestionale molto molto completo com'è nato allora è nato nel lontano 2008 quindi in realtà sono 15 anni che ci lavoriamo è nato da me in un'estate quando gli altri andavano in ferie non avevo di meglio da fare mi sono messo lì a fare un piccolo software per un idraulico che voleva tenere sotto controllo le scadenze delle caldaie e per cui ho fatto un programmino con grafiche clienti è una grafica impianti le scadenze ogni tot anni c'è il tagliando da fare ne ho praticamente quasi regalato ci avevo lavorato dei mesi e poi ho avuto l'idea di caricarlo al tempo su source forse chi non lo conosce oggi si parla di open source non pensa che tab al tempo c'era source forse caricato su source forse qualche utente inizia a scaricarlo inizia a scrivere ma non riesco a installarlo c'è un problema di qua c'è un problema di là non potresti fare anche questo non potresti fare quest'altro un po alla volta diciamo sempre nel tempo libero ho iniziato a migliorarlo implementarlo poi succede che nel 2011 è stanco di dove ero dove lavoravo dove tra l'altro non ne volevano sapere di software libero anche loro con la mentalità cosa vendo è software libero non posso venderlo me lo copiano ok ho aperto la partita iva come libero professionista e al tempo sviluppavo siti web infatti openstam manager non ve l'ho detto scusate funziona su web per cui basta avere un servo web un database e il gioco è fatto si utilizza via web per cui al tempo sviluppando siti web avevo anche le conoscenze proprio di lavorare su web e lavorare qui database per cui ho iniziato a pubblicizzarlo così un po insordina nella mia attività e dopo qualche anno arrivato qualche cliente che mi diceva carino cos'è questo un gestionale ma posso fare questo posso fare quest'altro gestisci le bolle gestisci ddt no però iniziamo a svilupparlo qualche cliente ci ha investito qualche soldino per contribuire allo sviluppo e un po alla volta poi nel 2015 con altri ex colleghi ci siamo ritrovati iniziavano arrivare richieste il gestionale aveva funzioni in più aveva qualche accenno di fattura di funzioni di fatturazione per cui iniziamo un po passarsi lavori eravamo in tre tre diciamo ex colleghi e poi nel 2017 abbiamo fondato un'azienda noi tre come soci praticamente da un 90 per cento di siti web e un 10 per cento di misto siamo arrivati a un 80 per cento lavorare su opensta manager e oggi infatti siti web li avevamo proprio abbandonati perché abbiamo deciso di specializzarsi su questo oggi 2023 siamo in due soci e quattro dipendenti che lavorano tutto il giorno su opensta manager allora lavoriamo su opensta manager e allora essendo in azienda ovviamente dobbiamo diciamo riuscire a stare in piedi per cui un grosso del nostro lavoro è intanto proporlo in cloud sui nostri server per chi non vuole avere il server in casa per cui questo ad esempio è un metodo con cui si può lavorare col software libero e lavoriamo molto anche con personalizzazioni che diamo sempre come codice aperto ai nostri clienti per cui domani se si stancano di noi possono andare da un'altra parte trovarsi un altro programmatore e continuare comunque lo sviluppo ecco non sono legati a noi noi semplicemente continuiamo lo sviluppo mi piacerebbe di più riuscire a condividere diciamo gli obiettivi e la strada da percorrere però al momento abbiamo sì tanti utenti che su github ci segnalano problemi suggeriscono nuovi sviluppi però al momento di sviluppi attivi la grossa parte deriva da noi per cui è naturale che che stiamo gestendo noi al momento diciamo all'andamento delle road map del progetto non so se avevo dato l'ok prima però per le slide ok perfetto scusa come si installa allora un'applicazione web per cui ci sono file php è sviluppato in php poi con tutto il suo html javascript sui framework e database mysql per cui è indispensabile per installare intanto apache php al momento il supporto è fino php 74 8.0 qualcosina stiamo finendo il porting per 8 e 1 e così via e database mysql o maria db si scarica la versione attuale da github qui trovate l'indirizzo ci sono i rilasci siamo arrivati a fare un rilascio al mese all'incirca per cui c'è uno zip da scaricare lo zip è sufficiente decomprimelo in una cartella di apache si accede da browser alla cartella e apparirà una schermata dove ci sono tre schermate semplicemente di configurazione la prima verifica i requisiti di php e di apache la seconda chiede di accettare la gpl versione 3 e la terza che di dati di connessione al database confermo e inizia a installarsi che cosa gestisce in particolare allora ad oggi è abbastanza completo anche se diciamo alcuni moduli non sono non sono su github non sono sul sito perché oddio allora sono sul sito alcuni moduli li vendiamo a parte chi li acquista poi tutto il codice sorgente tutto il cuore del gestionale tutti questi moduli che vedete qui e altri sono già nella versione ufficiale altri moduli extra sono sul sito si acquistano a parte poi chi li acquista può comunque modificarsi lì e installarli allora gestisce completamente tutte le anagrafiche clienti fornitori tecnici perché appunto serve per assistenza tecnica qui posso gestire i tecnici che escono a fare i lavori per dire noi che sviluppiamo software per noi il tecnico è il programmatore quindi posso crearmi il progetto posso caricarci dentro 100 ore di lavoro e poi il tecnico a calendario mi va a segnare le ore di lavoro quindi riesco a controllare il mio progetto gestisce il magazzino per cui prodotti schede articolo listine gestisce ddt disposizione e ricezione merci e gestisce anche il multi magazzino per cui se ho più più sedi o più stabilimenti posso gestire le giacenze sui vari stabilimenti gestisce ordini cliente ordini fornitore permette di creare le fatture anche con alcuni automatismi quindi posso partire preventivo ordine bolla di spedizione e fatturazione e genera anche le fatture elettroniche le fatture elettroniche le potete scaricare in xml per chi già diciamo le ha utilizzate per cui può generare scaricare e gestire quel servizio che vuole e poi preventivi e contratti vi faccio un attimo vedere come come si presenta allora questa qui è la schermata di accesso il nostro buon admin admin visto che è in locale questo qui è come si presenta allora abbiamo utilizzato un tema di bootstrap per chi conosce un ambiente admin lte per cui ho tutta la mia barra dei menu qui a sinistra questi clic vedete sono tutti i moduli sono tutti i moduli preinstallati poi ognuno c'è i suoi sottomenu la prima pagina è una dashboard questo perché perché essendo incentrato sull'assistenza qui è un calendario dove pianificare le mie attività quindi posso programmare per un tal giorno un'attività scelgo il mio cliente oppure posso creare al volo da qui posso scegliere se ha più stabilimenti dove sto andando a lavorare posso scegliere su che impianto sto andando a fare il lavoro se è collegato un preventivo un contratto un ordine scelgo la tipologia di intervento che sto andando a fare posso crearmi delle tipologie con ognuno un costo orario un costo una tantum e poi lo stato di avanzamento della mia attività qui scrivo alla richiesta riparazione server ambientiamolo nell'ambito informatico tipologia generico programmato qui adesso non sono connesso in rete però posso vedere anche il mio cliente dov'è per cui se è un intervento in trasferta qui si caricherebbe open street map piccola parentesi avevamo google maps fino a due mesi fa abbiamo cambiato open street map giusto per seguire la filosofia del software libero e poi posso assegnare tiziano verdi dalle 7.45 alle 8.45 che è l'intervallo che ho scelto e aggiungere la mia attività che ho programmato un lavoro che posso poi cambiare di durata lo posso spostare questo qui fu il calendar e poi giusto per seguire il modulo delle attività se vado su attività trovo tutte le attività che io ho aggiunto calendario quindi questa qui la numero 3 in arancione che è programmata se la vado ad aprire da qui o dal calendario ho sempre tutta la mia scheda di intervento che devo svolgere qui sotto posso andarmi a cambiare gli orari di lavoro orari di lavoro del tecnico posso inserire altri tecnici che ci lavorano il lavoro si si protrae quindi posso aggiungere altre fasce orarie qui sotto posso aggiungere dei pezzi di ricambio posso usare anche lettore barcode per sparare i codici posso aggiungere quantità e poi alla fine o riepilo di quanto mi è costato il lavoro e quanto lo vado a debitare al cliente per finire se io lo stessi usando da tablet da telefono ancora un po acervo diciamo posso fare anteprima e firma vediamo se mi si carica bello della diretta ok non mi si sta caricando comunque mi apparirebbe una finestra con l'anteprima del rapportino una cosa di questo tipo ecco perché perfetto devo aver scaricato un aggiornamento prima ok tutto ok perfetto l'imprevisto della diretta perfetto posso quindi stampare il mio rapportino cartaceo poi se siete interessati vediamo come funziona ho scaricato un aggiornamento giustamente da errore in stampa e posso far firmare su tablet semplicemente con lo schermo touch il rapportino e poi inviarlo al cliente via mail quindi qui mi resta poi uno storico dell'email configuro i miei account di posta e faccio un invio al cliente questo rapportino qui poi a fine mese posso prendere tutti i miei rapportini di lavoro selezionarli azioni di gruppo fattura interventi a fine mese io faccio tutti i miei lavori quindi procedi vado su vendite fattura di vendita e qui mi ha creato la mia fattura mario rossi entro dentro c'è la mia scheda della fattura ho le righe all'interno con l'attività numero 2 del 7 del 9 l'articolo che ho utilizzato le ore di lavoro e metti se non mi da errore di nuovo è perfetto ok ho un problema con le stampe oggi mi genera il pdf della fattura elettronica qui va bene non ho complicato le anagrafiche genera e qui per chi già ci lavora non so se tutti avete mai visto questa lente prima della fattura elettronica e io potrei scaricarla semplicemente inviarla per cui mi programmo i lavori fine mese mi raggruppo che ha le fatture e ho già pronta la fattura elettronica adesso io ho sorvolato su alcune cose ce ne sarebbero tante da dire oggi mi sono concentrato a fare una presentazione generale e poi vi faccio vedere anche qualcosa a livello di codice come l'abbiamo strutturato perché è un gestionale chi sente il gestionale immagina una cosa per aziende fatte in un certo modo che funziona così in realtà noi lavorando molto sulle personalizzazioni praticamente l'abbiamo un po' trasformato in un motore per creare moduli plugin e qualcosa diciamo di molto flessibile per cui ha una struttura che ha una piccola parte in Laravel anche se dovremmo riscriverlo completamente in Laravel però è una struttura che permette di creare in maniera relativamente semplice dei moduli per cui in alcuni casi abbiamo disabilitato quasi tutti i moduli l'abbiamo usato come base per fare altri software perché ha già la gestione degli accessi utente per cui posso scegliere un determinato utente per gruppi a quali moduli può accedere posso definire che un utente ad esempio il tecnico se accede alle attività può vedere ad esempio solo le sue quindi ho modo di modificare questa schermata qui andandome a inserire non per forza modificando il codice sui file ma al database un filtro per cui ogni tecnico vede solamente le sue diattività poi qui ci sono ulteriori filtri che noi chiamiamo segmenti quindi posso avere i promemoria che sono attività non ancora assegnate posso avere le attività non completate oppure archiviarmi in quelle completate posso crearmi dei segmenti e un po' tutte le schermate a parte la dashboard che si presenta come calendario però se vedete attività sono in forma tabellare e tutte quante hanno un filtro su ogni colonna per cui io posso semplicemente fare dei filtri aspetta che ho scritto qualcosa in più posso fare dei filtri combinati da qui non ho diciamo un sistema di ricerca particolarmente complesso e oltretutto per creare un nuovo modulo con una tabella così filtrabile per semplificare diciamo io vado a generare ovviamente devo avere una tabella database con i dati che mi servono vado a generare una query su una nuova tabella e questa qui mi genera questa tabella qui già filtrabile e dove già posso applicare dei filtri quindi diventa quasi non vorrei esagerare però quasi un framework ecco per svilupparci ulteriori moduli all'interno infatti prima sono andato sul fattore di vendita anche qui io posso vabbè sono una riga sola posso avere i miei filtri ritorniamo un attimo qui infatti qui avevo un attimo schematizzato come funziona allora a sinistra come vi ho detto ci sono i moduli la tabella dinamica è fatta con data tables per chi lavora nel web sa che è una libreria jQuery per javascript scusate per gestire tabelle dinamiche e questi qui sopra sono di widget praticamente sono una sorta di contatore per cui adesso io ho emesso una fattura di 165 euro questo qui mi da un totale del fatturato sono dati aggregati che posso vedere nei vari moduli sulla dashboard invece che è il primo modulo ho altri contatori ad esempio ho articoli in esaurimento perché se nel mio magazzino vado a gestire le giacenze degli articoli appena accedo al gestionale qui ho già articoli in esaurimento quindi ho gli articoli che sono sotto la soglia di magazzino per cui li dovrò poi ordinare anche questi widget qui si aggiungono al momento aggiungendo semplicemente una query su una tabella di database e qui mi appare il contatore poi vediamo allora questa qui è la schermata di modifica record allora come dicevo prima noi abbiamo cercato di strutturarlo abbastanza il gestionale in modo che sia relativamente semplice metterci mano e che abbia una struttura ovviamente però le schermate di modifica record le abbiamo lasciate abbastanza libere e sono strutturate così allora la schermata di modifica principale questa qui e diciamo c'è libertà di creare i vari campi da compilare le sezioni diciamo strutturali graficamente come si vuole poi c'è questa sezione qui in alto che è strutturata e permette di creare nuove stampe e aggiungere automaticamente pulsanti di stampa stampa a fattura in questo modo stampa a fattura in un altro stampa l'attività con la firma senza firma per cui anche qui aggiungendo dei record su una tabella di database mi crea nuovi pulsanti di stampa e poi i template di stampa si gestiscono a sé poi c'è un'altra area dove posso aggiungere pulsanti personalizzati per cui dall'attività posso crearmi un ordine posso crearmi una bolla e anche qui ho una struttura dove creare questi pulsanti appaiono sempre nello stesso punto però allo stesso tempo ho la libertà per poterli gestire liberamente e poi sulla destra ci sono i plugin i plugin sono delle estensioni questo qui è un esempio di una grafica lo faccio vedere sul programma vero e proprio su una grafica andiamo sul nostro cliente Mario Rossi questa qui è tutta la sua scheda anagrafica tutti i suoi campi compilabili sui referenti posso aggiungere delle persone di riferimento di responsabili il titolare responsabile del magazzino su sedi posso aggiungere se ha degli stabilimenti quindi quando vado a spedire della merce posso andarmi inserire qui delle sedi e anche questo vedete che è fatto con data tables per cui sede di Padova città Padova emozione Italia e qui mi vado ad inserire tutte le sedi poi un plugin statistiche anche queste qui sono estendibili basta semplicemente aggiungere un record sulla tabella dei plugin e poi c'è una certa libertà nel costruire queste schermate alcune sono standard per cui con una query in genero questa tabella qui ad esempio statistiche è un po' più manuale e personalizzata vi faccio vedere un po' la struttura allora queste qui sono le cartelle principali non ne andiamo a vedere tutte più che altro manca il tempo ma non avrebbe senso vederle tutte allora giusto per spiegare un po' come funziona allora asset ci sono file del gestionale file css javascript file per la grafica saltiamo alcuni files perché su ogni record sulla grafica sulla fattura sull'attività sull'impianto posso aggiungere allegati quindi vengono caricati qui dentro divisi per modulo vabbè qui ci sono file di inclusione file di appoggio locale sarebbe per la localizzazione supporterebbe il multilingua però non è completamente supportato per alcune problematiche per quel momento non è proprio non è multilingua ecco però c'è una base per poter gestire multilingua su modules c'è una cartella dove ci sono tutti i moduli questa la approfondisco tra poco e questa la tralasciamo che è temporanea plugin c'è una cartella con una struttura simile ai moduli per i plugin e poi qui ci sono delle delle classi di php e dentro vendor abbiamo tutte le librerie di php che scarichiamo tramite composer per poterli usare nel progetto dentro modules abbiamo una cartella per ogni modulo quindi ogni menu di sinistra è un modulo che può essere ad albero questo qui ad esempio è il modulo una grafiche come funziona allora questa schermata qui proprio tutta questa qui è all'interno di un file edit tutti i moduli hanno un file che si chiama edit che è proprio la schermata di modifica record quando io vado a fare più si apre sempre e unicamente il mio file add.php scusate che contiene il forma di creazione record per cui questo qui lo posso strutturare strutturare come voglio action.php contiene proprio le azioni quindi quando aggiungo un intervento aggiungo un impianto aggiungo un cliente lo cancello lo modifico lo duplico tutte queste azioni sono definite dentro questo file init vabbè è un file di appoggio quando carico record di modifica ho delle variabili di appoggio bulk.php contiene scusate le azioni di gruppo che io posso fare da qui seleziono delle righe tutte le azioni di gruppo queste qui sono all'interno di questo file bulk.php posso esportare cambiare l'azione poi un modulo ha più o meno azioni di gruppo rispetto a un altro poi buttons.php anche questo ha una sua struttura per gestire i pulsanti dentro il mio record quindi questi pulsanti qui qui ad esempio sulla grafica cliente crea una nuova attività crea un nuovo preventivo il posso creare da qui direttamente e poi una cartella plugin dove ci sono tutti i plugin di questo modulo cartella src con gli oggetti per gestire la grafica gli altri sorvoliamo al momento all'interno dei file giusto per sbirciare un altro po' ci siamo creati allora come dicevo prima il file edit ad esempio è la schermata di modifica record e c'è una certa libertà di lavorare con l'html però ci siamo costruiti dei componenti per semplificarsi la vita ad esempio vi faccio vedere questa poi abbiamo concluso quando aggiungo un'attività io mi vado a selezionare il cliente in realtà queste qui sono tutte chiamate ajax per cui io posso avere anche un milione di clienti questo componente qui già nel motore del gestionale ne carica mi sembra 100 alla volta quando io digito effetto una ricerca e mi carica solo i primi 100 che io ho ricercato se scorro la lista mi carica altri 100 per cui c'è tutta questa struttura qui è già dentro il gestionale una volta studiato come funziona diventa veramente quasi un framework per svilupparsi qualsiasi applicazione pensate per esempio che l'abbiamo fatto per un'associazione che gestisce campi da paddle loro gestiscono le prenotazioni e tutte le attività le tessere e praticamente credo sia rimasto solo il modulo una grafica poi il resto è stato costruito tutto ad hoc per loro però con una struttura del genere semplifica veramente parecchio lavoro questa era un po' una presentazione di cosa è questa manager come lo stiamo portando avanti noi cosa si può fare ovviamente è aperto per cui al di là che c'è un'azienda sotto che lo sviluppa comunque è aperto riceviamo contributi alcune richieste le facciamo comunque durante il nostro lavoro le sviluppiamo per versioni successive abbiamo il forum se andate sul sito openstamanager.com c'è il programma da scaricare c'è la demo da provare online c'è il link al forum c'è il link a github per cui trovate tutto qui grazie 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 allora grazie a fabio per questo talk siamo un po' stretti ma se volete c'è spazio per una o due domande Danilo bravi complimenti grazie una domanda a proposito del modello di sviluppo commerciale avete comunque dei commerciali che vanno in giro e per sì esatto perché cercano di procacciare i clienti o aspettate solo che vi contattino dal sito allora principalmente i contatti principali arrivano dal sito lì da anni le parole chiave sono più o meno sempre stesse gestionale assistenza tecnica siamo sulle prime pagine non facciamo campagne per adesso di web marketing le abbiamo fatte però sinceramente le richieste arrivano così e poi personalizzandolo abbiamo dei clienti che ci chiedono mi fai A e B finchè facciamo A e B ci chiedono C e dopo quattro anni stiamo ancora lavorando per loro perché più sviluppiamo più lo vogliono personalizzare aggiungere modificare funzioni quindi sì per il momento stiamo lavorando così abbiamo qualche cliente varra collaboratore che sì ci porta qualche cliente però non lo facciamo noi attivamente ecco più avanti probabilmente se ci strutturiamo ancora di più bisognerà ciao grazie per il talk la mia domanda era come mai la decisione di scrivere qualcosa from scratch invece di magari contribuire qualche modulo a progetti open source già esistenti tipo open rp o triton allora è nato nel 2008 al tempo l'avevo sviluppato interamente da solo e per i siti web che facevo in particolare per i pannelli di gestione dei contenuti al tempo forse wordpress non so che livello era però mi erano costruite una mia struttura per fare questo software qui dall'inizio ho usato quella struttura lì ho visto poi nascere altri progetti però diciamo c'è stata una certa evoluzione non così veloce ma neanche così lenta che ci siamo portati avanti una struttura solo 4-5 anni 5 anni fa abbiamo riscritto il motore però abbiamo continuato cioè la nostra esigenza era avere flessibilità non volevamo rischiare di legarci a qualcosa che non conoscevamo bene per cui abbiamo fatto la scelta per questo motivo una domanda al volo se possibile ho visto Apache installazione in locale Nginx container scalabilità dal punto di vista sistemistico avete pensato qualcosa? allora noi diciamo che funziona con Apache si funziona anche con Nginx abbiamo provato la parte sistemistica non la gestiamo noi quando diamo il servizio in cloud abbiamo un'azienda esterna ci fornisci server tutto quanto quindi è in capo a loro c'è qualche cliente che ha il suo server in casa semplicemente si installa Apache PHP quindi sì c'è molta diciamo libertà ecco bene allora grazie Fabio per aver condiviso la tua esperienza e conoscenza all'interno dell'ESC 2023 e un applauso grazie grazie grazie